Oggi è un buongiorno per l'igiene intima. C'è nuovo Lines Lay Intimo, detergente liquido condosatore. Buongiorno donne. Lines Lay. Fresco. Delicato. Profumato di pulito. Io uso Lines Lay perché in più è Lines. In ogni goccia tutta la cura e l'esperienza Lines nell'igiene intima. Nuovo Lines Lay Condosatore. Uselo anche tu.